Nella vita ho fatto la scelta giusta. L'attore. Girare i palchi di tutto il mondo, viaggiare attraverso il tempo e vivere mille vite. Nelle prame dei miei personaggi, nell'incrocio di sguardi incantati, nella voce che fa vibrare i cuori. È l'eterna meraviglia dell'arte. È tutto quello che potevo desiderare. Sto cazzo. Il teatro è ben lontano da come uno se lo immagina. La gloria di pochi si regge su un esercito di musicisti, di scrittori, di tecnici, lavoratori sfruttati, sottopagati e precarizzati. Ma almeno prima c'era il palco. L'incanto della scena. Covid ha portato via anche quello. Un attore vive solo di riflesso al suo pubblico. E ora che è scomparso, io non ho più nulla. Solo i miei personaggi vivono dentro di me, cercando di conquistare uno spazio, divorandomi. Ma forse sto esagerando. Perché essere pessimisti? Il teatro si evolverà. Palche on demand, video interpretazioni, pollulio di contenuti sul web. Lo sto facendo io stessa, proprio in questo momento. E sapete che cosa penso? È una vera merda. Questo non è teatro. Questo è solo un grido disperato con cui noi nascondiamo una paura lacerante. Quella di sparire. Io esisto. Se nessuno mi tocca, se nessuno mi parla, se nessuno mi ascolta. Io esisto. E anche nel remoto caso in cui io esistessi, come faccio a placare la mia fame? Senza lavoro, senza reddito, senza un minimo di prospettiva, nemmeno a lungo termine. Ho fatto un sogno in queste notti di quarantena. Ho sognato che era tutto finito, il virus scomparso, le mascherine bruciate in grandi riti collettivi. Ma appena alzavo lo sguardo, mi rendevo conto che nulla si era salvato. Scomparsi i teatri, i cinema, i palchi, le platee, i concerti. Erano rimasti solamente i supermercati. È un incubo possibile. Una nuvola nera è alle porte, che trasforma il desiderio in caos e l'impotenza in rabbia feroce. Nel mondo senza più arte, senza arte non c'è bellezza e diventiamo tutti più cattivi. Me lo dicono ogni giorno, i miei fantasmi. Salvate il teatro, o saremo costretti a uccidervi tutti. Salvate il teatro, o saremo costretti a uccidervi tutti.